Lo sai perché viviamo in un paese di merda? Perché ha fatto letteralmente con la cacca, con gli escrementi, tipo gli alberi, le persone, le strade. Beh, dentro di noi c'è sempre un po' di cacca, però in realtà non è proprio per quello. Cioè, secondo me c'è stato un periodo in cui noi eravamo un bellissimo paese. Sai, magari... A ottobre del 71, esattamente il 3 ottobre del 71, siamo stati un bellissimo paese per quattro secondi e mezzo. Perché? Non lo so, ha sparato una metà casa. Dopo me lo dici. Vabbè, diciamo che tutto questo per dire che insomma c'è stato quel ventennio, tra l'altro te sei pure avvicinato del dopoguerra, seconda guerra mondiale, in cui sembrava che noi potevamo essere un grande paese, un paese ricco, un paese con grande potere d'acquisto, felice e tutto quanto, fino a che il 12 dicembre del 1969, alle porte del Natale, questo qua, praticamente questo discorso, si è andato a far benedire. E da lì è cominciata la decadenza più totale del nostro paese. Cioè hanno spiegato che il Buon Natale non esiste. Non è vero che non esiste, posso provarlo. Ma al di là di questo, oggi parliamo dell'attentato di Piazza Fontana e dell'inizio dell'ascesa e della decaduta dell'Italia. E per chi non lo sapesse, Piazza Fontana è stata così rinominata dal governo per censurare gli accadimenti, perché originariamente si chiamava Piazza Tiananmen. Eheh, bentrovati, siamo tornati. Così, tanto perché siamo del tempo da buttare e non perché ci piace fare questa cosa, ma non è vero, no, anche perché ci piace. Come sono andate le vostre vacanze, eh? Vi siete fatti pungere da una medusa, da una tracina. Ma lo sai che... Ho sentito che un sacco di gente si è fatta punge da meduse. Cioè, nel senso, volutamente? Non volutamente, nel senso che le acque in territori tipo il nostro, che di solito fanno abbastanza schifo, quest'anno erano particolarmente pulite, tant'è che c'erano delle meduse. Ma secondo te, un mare pieno di meduse, cioè come lo chiameresti in una sola parola? Maredusa. Io lo chiamerei medusoso. Mucillagginoso. Eh, ma è quello quando c'è la mucillagine, che per chi non lo sapesse, la mucillagine è quel sentimento che si prova quando si incontra per la prima volta una persona che odi. È vomito di alghe. Esatto, esatto, esatto. Praticamente è vomito di alghe. E a proposito di vomito di alghe, di che ci parli oggi? Di che cosa ci parli? Di vomito di alghe, ovviamente. No, no, il vomito di alghe non c'entra niente. Ma cos'era quei quattro secondi del 3 ottobre del 1971 che mi dicevi prima? Niente, come stavo dicendo, ho totalmente detto una data a caso. Ah, ok, non era vero. Però se vuoi possiamo andare su Wikipedia e vedere cosa è successo quel giorno. Sì, però mi devi trovare un qualcosa che è accaduto in quattro secondi. Anzitutto che data ho detto che me la sono già dimenticata? Hai detto? Vuol dire, non mi ricordo se 3 o 5 ottobre del 1971. Beh, 1971. Allora, c'era Wikipedia? Wikipedia? Cagliari Calcio? Cagliari Calcio. No, non lo so. Vabbè, non è successo niente di particolare, dai. I storici, fondazione dell'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere. Va bene. Era domenica. Il segno zodiacale cinese era del maiale. Ok. E la fase lunare era la gibbosa crescente che sembra tipo, non so, un attacco di qualche anime. Gibbosa crescente. Una luna molto grassa. Una luna gibbosa. La prima canzone in classifica italiana era Tanta voglia di te dei Pooh. Mentre negli USA era Maggie May di Rod Stewart. Niente interessante. Tantissima bella musica. Hanno scelto praticamente, non so, adesso non ho in mente l'artista. Vabbè, comunque, non è esattamente quello di cui andremo a parlare. Quest'oggi, quest'oggi, in questo episodio, perché poi quest'oggi, quando si tratta di podcast, lascia sempre il tempo che trova, ritorniamo un po' sul discorso anni di piombo, anni di tensione. Ne avevamo già parlato in un episodio in cui abbiamo parlato dell'attentato alla stazione di Bologna il 2 agosto. Non mi ricordo benissimo quale anno, più o meno stiamo negli anni 70. Però, insomma, se volete recuperare quella puntata, che, non lo so, volete che questo sia un prequel di quella puntata, allora, ecco, magari potete riascoltare quella puntata prima di riascoltare questa puntata, oppure ascoltate questa puntata e poi cancellateci dai vostri podcast. No, sai, posso fare una cosa, posso fare una cosa. Come musica di sottofondo di questo episodio potrei mettere l'altro episodio, così la gente non ci capisce una massa. Vabbè, non sarebbe tanto diverso da ogni episodio che facciamo, visto che si accavallamo e che non siamo capaci a fare un cazzo di base, quindi... Nella vita o nei podcast? Nella vita, guarda, sicuramente no. Cioè, nel senso, non sappiamo fare molto. E quello che facciamo, lo facciamo male. Arriviamo a... Cito Homer Simpson dicendo non vedo l'ora che la giornata finisca per imbucarmi a letto insieme a te. In Bacucana, a letto insieme a te. E te non sei te. Non intendo te. Perché penso che... Ma è un tu generico per i nostri ascoltatori, perché noi vorremmo dormire con tutti voi contemporaneamente. Sì, attaccati a vinghiati a 40 gradi. Ma quanto ha fatto caldo quest'estate, ragazzi? Porca troia. Esattamente a 40 gradi. Anche qualcosa di più. Comunque, non indugiamo ulteriormente a chiacchiere futili e inutili ed addentriamoci in questa fantastica storia e siamo nel 12 dicembre 1969. Siamo nella Banca Nazionale in Piazza Fontana, che è la Banca dell'Agricoltura. È un luogo dove il venerdì, per esempio, si fa il mercato degli agricoltori, no? Nel pomeriggio ci si trattiene nella rotonda, ovvero il salone centrale della banca, dove si chiudono le trattative della settimana. E molti agricoltori... E stai con le patate, con i gignali. Sì, sì, oh, 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 i rubezzi dei cinghiali, mi dai 50.000 lire e ti do il cinghiale. E poi questo è accento milanese, eh, tipico accento milanese. Si chiudono le trattative e si recano addirittura il pomeriggio, perché questa banca eccezionalmente rimane aperta fino alle 5.30, quindi fa un orario più lungo rispetto alle altre banche. Non sai che sfigati, una volta il lavoro in banca era una pacchia, c'era tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, questi lavoravano un botto, invece si facciano un culo così e venivano pagati in patate. Eh ma devi capire però che negli anni 60 dove avevamo già una mezza industrializzazione, comunque veniamo da un periodo di baby boom economico dove l'Italia si è ripresa, si è affacciata ad altri tipi di commerci, comunque l'agricoltura è cosa che a oggi non saprei dire se è la stessa cosa ma non credo, purtroppo abbiamo perso un po' la nostra identità da questo punto di vista, però all'epoca l'agricoltura era sicuramente il commercio primario del nostro paese, quindi è normale che banche che magari concedevano prestiti o roba del genere per agricoltori specialmente rimanevano aperte un po' più a lungo. Eh quel giorno per esempio ci saranno state sulle 300 persone tra l'interno e l'esterno della banca fra chi doveva entrare e che era già fuori soddisfatto o meno soddisfatto della trattativa perché poi si andava lì insomma cercava, si cercava di trattare con la banca per avere i prestiti, insomma le solite cose, le base. L'unica cosa che cambiava era il valore della moneta, insomma all'epoca penso 50.000 lire, boh non so se era stato lo stipendio di un mese, tu che sei più esperto, 1969 più o meno. Ma forse anche di più. Forse anche qualcosa di più, 100.000 lire è lo stipendio di un mese. No qualcosa di più nel senso 50.000 lire erano di più di un mese di stipendio. Era un buono stipendio. Ma non vorrei di una cazzata, mi sa che negli anni 60 era ancora, io mi ricordo mi nonna aveva uno stipendio di 1200 lire, ovviamente parliamo di prima degli anni 60. Ok. Però per dire, non lo so, 50.000 lire mi sembra tanto. Ci sta. Io ricordo Ferruccio Lamborghini guadagnava tra le 40 e le 60.000 lire quando faceva il meccanico, sì stiamo comunque i primi anni 60, fine 50. Non lo so, adesso non ci interessa questo discorso. Sì, forse era un po' di più. All'improvviso però all'interno di questa banca c'è un odore, un odore di bruciato che pervade la sala. Praticamente c'era una bomba che era stata piazzata sotto il tavolo delle trattative e alle 16.37 esplode creando un boato assordante. Bello. Molto molto bello. In una borsa di pelle scura era contenuto un chilo e mezzo di esplosivo collegato a un timer, quindi qualcuno è andato lì. Manzo? Cammello? Sì era, no era, oddio, geniglite? Pelle di genovese. No, è un esplosivo creato sempre da Adam Nobel si chiamava, non si chiamava Adam però si chiamava Nobel, quello che ha creato la dinamite e il premio Nobel. E comunque... Non mi ricordo il nome, Arthur Nobel forse, forse Arthur, non mi ricordo, cercalo su Google, chiamiamolo Gennaro. Gennarino, che era piccolo piccolo. Dopo l'esplosione... Alfred. Alfred, Alf, per gli amici Alf l'alieno, dopo l'esplosione Fortunato Zinni, Fortunato de nome de fatto, visto che lui si trovava all'interno della, diciamo all'interno della rotonda, quindi del salone, si chiamava rotonda proprio perché era a forma di una rotonda dove all'interno c'erano i dipendenti della banca e all'esterno gli agricoltori che cercavano di portare a termine le proprie pratiche. Un impiegato, appunto, fortunato, addetto al taglio di mani a fine contrattazione, taglio di mani si intende, sai, quando due stringono la mano, non che c'aveva un macete e segava le mani quando uno non era contento, no, taglio di mano quando due si davano la mano e c'era quello che con la mano faceva tipo karate. Non so adesso come... Una volta effettivamente i contratti si concludevano per stretta di mano. Ed è così che si faceva, si dava la stretta di mano, si faceva il tagliamano, tagliamani, quello che si dice, e Fortunato Zinni prendeva dei soldi per fare questa cosa. Ora beh, probabilmente faceva anche altro. E sente... insomma, lui si risveglia da questa esplosione perché sente dei telefoni squillare. Intorno a lui però è tutto buio, cioè non riesce a vedere una bene amata minchia, ma riesce a memoria, insomma, a capire dove si trovano i telefoni, anche un po' seguendo il suono e tutto quanto. Intorno a lui è tutto buio, riesce a trovare questi telefoni e dall'altra parte della cornetta c'è la questura che gli chiede cosa cazzo è successo e che cosa vedeva intorno a lui. Lui che cosa fa? Vede un braccio che gli fa rendere conto di quello che era appena successo. Non è che vede un braccio staccato, cioè un arto per terra sul pavimento. E chiedeva aiuto? Il braccio? Eh. Faceva così? Ah, non potete vedermi. Esattamente così, tu vuoi dobbiamo sapere, io non vedo Mario. Vai con il video motivazionale. Ah, no, è un podcast. Eh? Io non vedo Mario in questo momento, quindi quando lui mi dice faceva così, io vado a intuito. Che faceva così? No, non faceva così, faceva in questo modo qui. Ah. Vedi, vedi. Vedi, vedi. Un pezzo di... Un'esplosione terribile che ha distrutto qualsiasi cosa. Arti umani sono attaccati alle pareti mentre iniziano le indagini, dove il nostro eroe fortunato Zinni, del nome De Fatto, dopo aver pianto e fumitato, viene chiamato, oltre a danno pure a beffa, tra virgolette, dal direttore della banca per scrivere nome e cognome dei proprietari dei resti per fare l'elenco dei morti. Perché voi dovete capire, perché non tutti lo sanno questa cosa, forse ti devi dilungare un pochetto, perché se no non si capisce bene, gli arti solitamente non sono attaccati alle pareti, ma sono attaccati agli umani proprietari degli arti. Alle persone, esatto, sì, è vero. Invece in questo caso c'era questa particolarità che gli arti stavano sulle pareti, ecco. Sì, sì, ma non perché erano gli arti delle pareti, cioè non è che le pareti hanno degli arti. No, no, e non che le pareti siano umane, attenzione. Non che le pareti siano umane. Poi se voi considerate le pareti umane, per carità, uno rispetta ogni tipo di credenza. Ma ci sono delle pareti molto serie, molto umane. Tendenzialmente sono serie le pareti, a meno che non sono colorate. A volte sono anche sedie. Le pareti? Sì. Perché tu ti siedi su una parete? Beh, io ho una foto dove sono arrampicato su una parete, ora non ci ringheremo su quell'episodio, però... Quel giorno comunque alla Banca Rigola ci furono un totale di 17 morti e 88 feriti. Insomma, una bella botta. Allora, questo, tanto, vabbè, è quello che è successo, poi continuiamo, giusto, piccola parentesi. È stato, diciamo, il primo atto terroristico mai registrato dopo la Seconda Guerra Mondiale che ha dato inizio a quelli che poi saranno gli anni di tensione, gli anni di... come si dice? Gli anni di piombo, bravissimo. Quindi, insomma, da qui parte un po' tutto, diciamo, perché è stato... E la cosa fa ridere perché non c'è stato il piombo in questo primo attentato. No, non c'è stato piombo, ma giniglite. È importantissimo questo dettaglio di Alf Adam. No, Alf... come si chiama? Nobel. Ecco. Lo stesso pomeriggio... Allora, a casa di Alfred, con Jack. Lo stesso pomeriggio nella banca commerciale in Piazza della Scala, sempre a Milano, viene trovata una borsa che contiene una cassetta portavalori. La borsa inizialmente si pensava appunto che contenesse dei valori che potessero essere... potevano essere qualsiasi cosa che per voi abbia valore. Beh, i valori possono essere di tutto. Possono essere l'amore per la famiglia, la gentilezza, l'onestà. Sì, erano più fisici, eh, però anche quelli hanno valore, sicuramente. Beh, anche la bellezza, per carità, può essere l'estetica, può essere un valore, però... Anche la bruttezza. Sì, sì, io credo nella bruttezza. Io credo nella bruttezza e devo dire, mi viene molto bene questa cosa. Essere brutto. Sì, 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 sì. Guarda, ci vuole tanto impegno. Non è vero, non è vero, non è vero. Cazzo, è vero quanto sono sexy, mamma mia. No, no, è vero, è vero, stupito sexy Stefano. La borsa viene messa in una saletta, ma dopo l'esplosione alla banca agricola, si pensa che lì ci possa essere un esplosivo. E effettivamente era così. E qui la bomba però non esplode, qualcosa andrà storto, e le forze dell'ordine accorrono per farla brillare. Cosa che, a quanto ho capito, non era proprio una pratica, insomma, non è che si faceva proprio così. Del solito si potevano addirittura disinnescare anche con una certa facilità, ma loro decidono di scavare una buca sotto la sabbia, buttacce sta bomba, appiccialla e falla esplode. Comunque, dopo questo, il terrore arriva addirittura a Roma, perché verso le 5, quindi stiamo a mezz'ora dopo dal primo attentato a Piazza Fontana, esplode un'altra bomba alla Banca Nazionale del Lavoro in Piazza Barberini. E mezz'ora dopo un'altra bomba all'altare della Padria esplode, praticamente tipo distruggendo un pezzo di tetto e provocando anche qualche ferito, vetri rotti di auto, come negli altri casi d'altronde. Ovviamente nulla è paragonabile alla strage di Piazza Montana. Quindi ci troviamo in una giornata storica, che è il 12 dicembre del 1969, dove ci sono stati praticamente cinque attentati nelle due più grandi città d'Italia, che sono appunto Milano e Roma. E Caltanissetta. Ci fanno pensare che comunque... Come? Milano e Caltanissetta. Milano e Caltanissetta, ovvio. Ma c'è un'altra grande città in questo episodio, ma ci arriveremo più avanti. Cinque attentati nello stesso giorno che fanno capire che chi c'è dietro questi attentati comunque sembra voler dimostrare di non essere proprio uno sprovveduto, che è in grado di creare tensione in cinque punti diversi contemporaneamente. Un'organizzazione di una certa grandezza, anche volendo. E parliamo di tensione sessuale, ovviamente. Tensione sessuale. Tremo. Trenzione sessuale. Tritolo. Il questore di Milano, Marcello Guida, fa partire subito le indagini, prendendo in considerazione ogni tipo di pista, per qualche minuto. Perché poi le forze si concentrano solamente sugli anarchici. Cioè avevano già deciso che i gruppi anarchici, tipo lotta continua o potere operaio, dovevano essere i colpevoli di questi cinque attentati. Perché poi c'erano cellule comunque anarchiche sia a Roma che anche a Milano, ma come in tutte le grandi città, tipo Firenze, tipo Bologna, tipo Torino. Comunque erano quei movimenti inizialmente partiti come i movimenti studenteschi, che poi sono diventati movimenti operai, poi si sono uniti a quelli studenteschi, dei anarchici, estremi di destra, estremi di sinistra. Insomma, c'è stato un po' dappertutto. Però no, dovevano essere stati per forza gli anarchici. In particolare spicca il nome di Mario Merlino, un anarchico di Roma dal passato non pulitissimo, con mandante Stefano delle Chiaie, capo del movimento neofascista Avanguardia Nazionale. Poi sti nomi, veramente so, denapotenza, lotta continua, potere operaio, Avanguardia Nazionale. Merlino. Merlino. Vabbè, quello è un cognome, purtroppo uno ce nasce col cognome. Vabbè, quello è un coglione. No, quello è un coglione. La pista giusta con Mario Merlino, ma non perché era anarchico, perché questo Mario Merlino, prima di essere un militante anarchico, era iscritto al circuito neofascista, appunto di Avanguardia Nazionale, e continuando ad avere dei contatti, con molte probabilità quindi era una specie di infiltrato per conto di Chiaia all'interno delle sinistre, diciamo, dei gruppi, delle cellule sinistre. Il giorno dei funerali, davanti al Duomo di Milano, più di 20.000 persone partecipano in silenzio. Un altro paese, altre persone, un'altra profondità che, secondo me, ormai abbiamo praticamente perso. Roberto Gargamelli, entra quest'altro personaggio, un altro giovane di 19 anni, fondatore... Un nome del cazzo. Sì, Merlino Gargamelli, però non so credibili. Cioè, un conto è che ti chiami, che ne so, Mario te rompo il culo. No, vabbè, però... Armando Maria Cataratta. Sì, capito? Però dopo ci stanno alcuni cognomi che incutono un certo timore, tra virgolette, però Gargamelli e Merlino, so poco credibili. Però Merlino, in realtà, era più che credibile. Quello veramente poco credibile era appunto questo poveraccio, Roberto Gargamelli, un giovane di 19 anni, fondatore di un movimento anarchico, che viene arrestato perché riconosciuto da un testimone che lo aveva visto nei pressi della banca. Al momento del riconoscimento, Roberto si presenta con altre tre persone, no? Sai, quando ci stanno i film americani, tipo che c'ha la vetrata, c'è stato delle persone dietro, c'è il testimone fuori che deve riconoscere tra le persone che poteva essere il colpevole in quel caso. Il problema è che queste altre tre persone, a parte che probabilmente erano poliziotti, ma poi erano vestiti di tutto punto, pettinati, con la barba fatta, ciacca e cravatta, mentre il povero Roberto Gargamelli, che ormai stava a argabbio tipo da tre giorni, indossava tipo una maglia di lana e delle scarpe di cartone. Ma nel senso che stai alludendo che forse non era stato lui e non c'entrava un cazzo? No, no, non è stato lui e non c'entrava un cazzo. Esatto. Quindi sei stato te? Sì, nel 1969. Beh, beh, beh. Il pensiero di me ha provocato questo. Pensa a un merreale cosa potrebbe fare. Vedi, in anteprima per voi ascoltatori del podcast abbiamo scoperto finalmente chi è stato? Il mandante, esecutore e regista, nonché anche sceneggiatore, parrucchista, truccatore, lucista. Se crediamo nella reincarnazione probabilmente potevo anche essere uno dei mandanti all'epoca visto che non ero ancora nato ma magari ero reincarnato in un altro colpo. Sì, vabbè, Mario, queste scuse da quattro soldi non attaccano. Ok, va bene. Basta, me ne vado. Bravo. Allora, insomma, questo Roberto sembrava un pulcino bagnato dentro a una gabbia dei farchi però vabbè, questo era per, insomma, cercare di farvi capire, di darvi un'immagine. Il testimone, vedendolo, tra l'altro aveva anche l'età sua, 19 anni, non se la sente di riconoscerlo ma Roberto viene trattenuto lo stesso. Anche Pietro Valpreda, fondatore del Circo L'Anarchico 22 Marzo, viene riconosciuto dall'ennesimo testimone e viene arrestato e tenuto infermo. In questo caso il tassista Corniero Rolandi, ovvero il testimone in questione, sostiene che un uomo con i tratti di Valpreda lo aveva chiamato per arrivare a Piazza Fontana per aspettarlo qualche minuto fuori dalla banca e poi per risalire e farsi lasciare poco più avanti. Zan zan zan. L'avvocato di Valpreda chiede a Rolandi, Ertà Sinaro, se aveva mai visto una foto del sospettato prima della deposizione. Ma Rolandi rispose che quello era l'uomo che avrebbe dovuto riconoscere, come se fosse stato plagiato in qualche modo, capito? No, questo è... Io devo dire che è stato lui. Era un po' questa la versione. Di fatto Rolandi era un poveraccio, de spirito, insomma. Poteva essere plausibile che fosse stato, non lo so, plagiato in qualche modo per depistare le indagini. Anyway, al momento del riconoscimento il tastista lo indica come l'uomo da colpevolizzare. Da te che Valpreda praticamente gli estri la faccia e gli dice ma mi hai visto bene? Sei sicuro di quello che stai a dire? Da te a questo punto Rolando non è più molto sicuro e dice che se l'uomo che aveva riconosciuto non era valido allora non si trovava in quella stanza. Quindi nonostante questo Valpreda comunque viene come anche Gargamelli viene trattenuto e non viene rilasciato. Con gli anni e le indagini si pensa in buona fede che l'uomo a cui diete il passaggio Sinaro non era Valpreda ma un'altra persona molto somigliante un certo Claudio Ursi un neofascista appunto teoria che viene confermata da un altro neofascista un certo Vinci Guerra vedi che cognomi Claudio Ursi Vinci Guerra questi so cognomi che incudono un certo timore no pure Valpreda però Valpreda capito? Gargamelli non so quanto so credibili eh non so credibili comunque anche in Italia Vinci Guerra eh comunque insomma non è proprio non cozza molto bene insomma in questo insomma questo qua dice che Orsi era un infiltrato no scusate Vinci Guerra era un infiltrato negli ambienti di sinistra e quindi conosceva bene Valpreda e magari il discorso è questo assomiglia a Claudio Ursi usiamolo per evitare che poi venga arrestato il nostro il nostro compagno ah no tra loro non dicono compagno però insomma avete capito camerata esatto l'ipotesi che lo scambio che lo scambio fosse manovrato è sempre stato molto tangibile insomma a Milano un altro anarchico viene messo alle strette un certo Pino Pinelli che Poraccio pure lui passerà alla storia non proprio benissimo un ferroviere che viene arrestato Pino Pinelli hai riso vero ti ho sentito ridere ho riso è diventato anarchico per colpa di come l'hanno chiamato Pinelli mi costringi no Pino mi costringi ad essere ridondante nell'anarcha banale anche io e banane e io ti dico anarchico tu sei anarchico io tantissimo te fa un sacco come cazzo te pare è vero io passo passo solo qua arancione sia col verde che col rosso me butto fuori sulle cunette passo qua arancione insomma Pino Pinelli un ferroviere che viene arrestato interrogato per tre giorni superando largamente anche lui le 48 ore di fermo permesse dalla legge l'appartamento dove ci sono la moglie e le figlie viene messa a soquadro alla ricerca di qualche prova mai trovata e nella questura però succede qualcosa ancora oggi non spiegata del tutto e all'apparenza inaspettata Pino Pinelli sai se inverti se inverti le sillabe di prova mai trovata viene fuori troia mai provata va benissimo allora di qualche troia mai trovata no troia mai provata scusate mi sono picciato sembrava così uno scioglilingua Pino Pinelli muore cadendo da una delle finestre del quarto piano dell'ufficio del questore calabresi non proprio un ufficio a caso al grido di viva l'anarchia o qualcosa del genere cioè si è buttato lui si è buttato lui ma qui finisce la prima parte del della piazza Fontana scoprirete nel prossimo episodio chi ha ucciso il maggiordomo ah non era questo però insomma scopriremo nel prossimo episodio come sono andate avanti le cose quindi iscrivetevi fate quello che dovete fare se non volete perdervi la seconda parte di questo episodio che ancora non ha un titolo per adesso si chiamerà quanto è bello Stefano ma vi ricordiamo che se invece siete pigri non avete voglia di aspettare due settimane per l'uscita della seconda parte potete tranquillamente andare per sbaglio sul nostro Patreon sottoscrivete per sbaglio diventate patroni patrocinatori patranti patranti soprattutto quadranti diventerete dei quadrati e avrete l'episodio tutto insieme senza pubblicità in anticipo e ovviamente come abbiamo sempre detto una bustina di peli pubblici omaggio alla prossima arrivederci ha ha Grazie a tutti.